Il servizio è benissimo 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 È benissimo È benissimo Il servizio 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 è benissimo È benissimo Il servizio è benissimo E' 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 benissimo Il servizio è benissimo E' 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 benissimo Davide Lussi, capazzabilità, nulla, il set point, con il servizio ingresso di netto, sale, vincitamento della consiglia romana. Sì, ma adesso non è successo. Finizio per cortesia, grazie. Buono, bellissimo, bravo la risposta da questa bordata di capi, con il zero, tutto il pallonetto che costringe capi a portare lo smash. Da lontanissimo la palla, mi scendete? Ok, il servizio di cappè. Zero, netto. Forzale. Siamo tappi di fare il servizio, la sposta di penis, che non si vede. 15, 30. Grazie a tutti Grazie a tutti Prendere posto, grazie Fortesemente prendere posto, grazie Grazie a tutti 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 Forzare Grazie a tutti 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 Grazie a tutti